E quest'oggi invece parliamo di sport occupandoci di Fuzal femminile nel girone D del campionato nazionale di Serie A2 il Castellammare Calcio A5 reduce da due brillanti successi di fila contro Spartak Caserta e San Giovannese e primo in classifica con pieno merito e vediamo oggi il servizio curato da Salvo Orlando e Giada Guayana Termina con il tennistico punteggio di 6-1 sul team calabrese della San Giovannese di mister Giuseppe Audia il debutto casalingo stagionale al Palagrimaudo di Alcamo nel Castellammare Calcio A5 che dopo il brillante successo all'esordio per 4-1 a Caserta sul parchè dello Spartak vince anche nella seconda giornata del campionato nazionale di Serie A2 girone D Per il team della fiatata triade formata dalle incomiabili Alice Galante, presidente, Barbara Cacciatore, Rossella Di Maggio, dirigenti guidato magistralmente in panchina dal tecnico di origine marsalese Enzo Giacalone ben supportato dal suo staff made in partinico formato dall'allenatore in seconda Giovanni De Simone dal preparatore atletico Giovanni Zuppardo un bis di tutto rispetto che conferma l'ottimo lavoro svolto fin qui dalle ragazze in maglia rosso-blu capitanate dall'esperta e onnipresente universale balestratese Marina Piccolo il primo tempo contro la San Giovannese scese in campo con la casacca gialla fluorescente inizia con un ottimo giropalla da parte della squadra di casa che arriva numerose volte vicino alla porta e tenta il gol sempre sventato dal forte portiere avversario Vittorio Dragone a sbloccare il match al decimo minuto del primo tempo la coriacea e grintosa laterale Castellammarese Alessia Bevilacqua a suo esordio in Serie A2 dopo cinque intensi minuti di gioco offensivo a stiglare il raddoppio è la trapanese Andrea Rondello la più giovane giocatrice della squadra classe 2005 la prima frazione di gioco si conclude sul 2-0 per i padroni di casa all'inizio del secondo tempo dopo un solo minuto di gioco favorita anche da una piccola distrazione difensiva la San Giovannese trova il gol con Aida Castrovilli e riduce così le distanze portandosi sullo score parziale di 2-1 il match prosegue con grande pressione da parte della squadra rosso-blu che ritrova il sorriso e completa la sua goleada con la generosa e inesauribile attaccante monteleprina Silvia Caserta autrice di ben 4 gol consecutivi rispettivamente all'ottavo, al decimo, al tredicesimo e al quattordicesimo dal secondo tempo il poker della Bomber numero 23 chiude definitivamente la contesa la grande soddisfazione per l'importante risultato conseguito al palagrimaldo di Alcamo che conferma la leadership a punteggio pieno del Castellammare Calcio 5 in classifica con sei punti in due gare ex equo con il Fuzz all'Irpinia con le Trapanese prima per differenza a reti darà una spinta alle ragazze del sudalizio Castellammarese per allenarsi ancora più intensamente durante questa settimana in vista della prossima partita che si giocherà domenica 24 ottobre in terra campana contro le Fuzz al Wolves